Persona, famiglia e imprese sono sempre state al centro della nostra azione di governo e lo saranno anche nel nostro programma. Per Monti e Bersani il protagonista invece è lo Stato, lo Stato oppressore. Il redditometro ne è un esempio. Siamo tutti considerati evasori e l'onere della prova è sempre a carico del cittadino. Noi vogliamo togliere l'IMU e vogliamo per esempio che chi assumerà giovani non dovrà pagare nessuna tassa.